La Sicilia, come il resto d'Italia, non ha una legge sul fine vita. Chi si interroga su una questione così delicata come porre fine alla propria esistenza è lasciato solo, senza informazioni e senza una normativa. Eppure il tema non interessa poche persone. Secondo gli ultimi dati, sono 144 i siciliani che hanno chiesto informazioni sul suicidio assistito. Alcune associazioni e forze politiche stanno cercando di correre ai ripari, promuovendo una legge di iniziativa popolare. Ma come spiega Matteo Mainardi, coordinatore della campagna nazionale Liberi Subito dell'associazione Luca Coscioni, a causa dell'autonomia servono 10.000 firme perché la legge sia presentata. E tu? Sottoscriveresti la proposta di legge sul fine vita? Leggi di più su Focus Sicilia.